Divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati non trattati in discarica. La diffida è stata inviata dalla Pisana alla maggior parte dei comuni del Lazio e tra questi c'è anche Civitavecchia. Un divieto, quello imposto dalla regione, è causato dalla circolare del ministro Orlando che porta la data del 6 agosto 2013, come ricordato anche dal rappresentante del Movimento 5 Stelle Antonio Cozzolino. Quello che abbiamo appreso anche dai giornali, sembra che la circolare che obblighi a questo procedimento i rifiuti che devono essere conferiti in regione sia del 6 agosto dell'anno scorso, la circolare del ministro Orlando. Addirittura? Eh sì, così pare. Quindi mi chiedo dove si sia bloccato il flusso informativo, perché arrivare ad apprendere la notizia a 6 mesi di distanza francamente lascia un po' interdetto. La circolare parla chiaro, i rifiuti prima di essere conferiti in discarica vanno pretratrati e la circolare spiega anche quali processi mettere in atto. Il trattamento è effettuato mediante tecnologie più o meno complesse, si legge sulla circolare, come ad esempio la bioessicazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico-biologico e l'incenerimento con recupero di calore. Ed è proprio sulla base di questa circolare che la regione Lazio il 4 febbraio scorso ha inviato una lettera a tutti i gestori delle discariche, diffidandoli ad accettare in discarica rifiuti urbani non trattati, un fulmine a ciel sereno. Nonostante infatti la circolare del ministro Orlando fosse di dominio pubblico, la stessa circolare era indirizzata solo alle regioni e alle province autonome. Di conseguenza le regioni avrebbero dovuto provvedere ad informare i comuni, ma da quanto riferito da HCS ad oggi, oltre alla rifida, non ci sarebbe traccia di alcuna nota informativa da parte della Pisana, fatta eccezione per il piano rifiuti. Ora aspetterà i comuni, tra cui anche quello di Civitavecchia, a trovare la soluzione al problema. Per quanto riguarda Civitavecchia, l'ex sindaco Tidei suggerisce al commissario la possibilità di conferire in qualsiasi discarica già autorizzata rifiuto tal quale, ricevendo in cambio rifiuto trattato da conferire nella discarica di Civitavecchia. Soluzione Lampo invece è trovata da Tolfa, che ha trovato l'accordo con la discarica di Viterbo, impianto che dispone del trattamento meccanico-biologico. A Lumiere è invece chiesto alla regione una proroga per la discarica di Civitavecchia. Nessun problema, infine, per Santa Marinella, che già conferiva nell'impianto di Viterbo. Vietato conferire i rifiuti indifferenziati non trattati in discarica. Come abbiamo sentito dal servizio appena mandato in onda, la Regione Lazio ha mandato una diffida a tutti i gestori delle discariche per vietare loro di far conferire ai comuni rifiuti indifferenziati non trattati. Stessa sorte che è toccata al comune di Civitavecchia, dove il commissario straordinario Ferdinando Santoriello, non appena presa la notizia, ha immediatamente inviato una nota ai cittadini a mezzo stampa per chiedere loro di evitare di buttare nei cassonetti verdi i rifiuti fino a nuovo ordine. Noi siamo andati in giro per la città per cercare di capire quali fossero gli stati d'animo dei Civitavecchiesi non appena appresa la notizia. Sentiamo cosa hanno risposto. La Regione ha diffidato tutti i gestori di discariche a far conferire ai comuni rifiuti indifferenziati. Quindi momentaneamente è sospesa la raccolta dei rifiuti. Io stamattina c'era cartone, legno, latta e plastica, l'altra roba no. Non ho capito dove la mettiamo, ce lo dicessero. Vogliamo portare il sindaco. Lei cosa ne pensa? Non commenta. Non commenta proprio perché è una vergogna. Secondo lei il comune potrebbe fare qualcosa? No, se ci facessero pagare meno tasse sui rifiuti, questo dico. Adesso la proseguiamo molto abbastanza. È ora di finirla. Troppe ci stanno. Per chi poi? Qualcuno che non fa il suo, evidentemente, perché non è possibile che ci vediamo che sta in defici in questa maniera. È possibile proprio. La diffida della Regione Lazio è la mancata raccolta dei rifiuti. Sì. Cosa ne pensa? Eh, ho detto che fanno schifo, che gli devo dire? Ma come si potrebbe risolvere? Ah, non lo so io. Lo so. Al comune lì, chi è il sindaco? Chi? Ci sta più nessuno. Non si possono più raccogliere i rifiuti indifferenziati. I cassonetti verdi rimarranno pieni fino a nuovo ordine. Non mi stupisce che un giorno i nodi vengano al pettine, però non sono informata dei particolari. Sapete, non si possono più raccogliere i rifiuti indifferenziati, quindi i cassonetti verdi rimarranno pieni fino a nuovo ordine. Colpa dell'amministrazione? Colpa della Regione. Ha imposto alle discariche di non accettare più rifiuti che non siano prima trattati negli impianti di legge? Eh, è un problemone grosso, perché a fine che finiamo con la campagna, insomma, Napoli ci fa ad esempio. Fino a qualche anno fa, fino all'anno scorso, anzi, tuttora, abbiamo dei grossi problemi nella Regione Campania. Speriamo di non arrivare a quel punto, speriamo che la Regione, almeno come situazione gravosa, cambi opinione sulla differenziata. Però le discariche ormai sono quelle che sono, altre non le hanno fatte, non so se le fanno e ci teniamo un problema per adesso. Nel frattempo il Comune invita a differenziare quanto più possibile i prodotti. La città ci potrebbe riuscire? Probabilmente sì, è una questione di cultura, è una questione di cultura del rifiuto differenziato. È una cosa un po' complicata per il momento. Comunque io non sapevo niente perché per lavoro sto fuori Civitavecchia, quindi vedo che negli altri paesi però hanno risolto questo problema, fanno una raccolta differenziata. Comunque sono organizzate e sono i comuni, non ce la prendiamo sempre con la Regione. Sono i comuni che organizzano, i cittadini che partecipano. Cosa ne hai pensato? Non so, se saremo dentro casa, vedremo un po' quello che ci potremo fare. Se siamo rimasti solo noi a buttare la monnezza, perfino Aurelia già fa la gara a corte differenziata. Momentariamente non si possono buttare perché i rifiuti indifferenziati prima devono essere trattati, prima di arrivare in discarica. E li terremo dentro casa, poi quando il Comune si deciderà dove buttarli, li prenderemo tutti insieme e li butteremo. e contenitori apposta, che ne so. Ci fanno proprio, a Santa Varinara ci fanno... Eh, a parte, ma ci vi da vecchia, no. Non è che tu, come li butti, potresti anche buttare bene, ma è il fatto da quando arrivano, la discarica che cosa ne fa di tutto questo... Ecco, soltanto questo, se facessero le cose fatte bene, già. Quindi sarebbe la discarica che si dovrebbe organizzare? Penso, penso di sì, perché noi ci organizzeremmo subito i cittadini, perché oggi vediamo che schifo c'è intorno, perciò... Lei cosa ne pensa? Beh, noi già la facciamo indifferenziata, quindi... Quella organizzata che già c'è, vetro, plastica, carta... Però adesso ci sarà l'umido. Della plastica, quello del cartone, quello del vetro, e invece mette tutto insieme e poi va via. È arrivata una diffida da parte della regione a tutti i gestori di discarica con cui si chiede di non accogliere più rifiuti indifferenziati, non trattati. Quindi, momentaneamente, la raccolta dei rifiuti è stata sospesa. Non lo sapevo, anzi, ne prendo atto. Una cosa fatta bene, ecco. A meno che obbligherà tutti i cittadini di fare una raccolta differenziata. Ci si potrà riuscire? Speriamo di sì. Niente, hanno detto che non si deve buttare quella indifferenziata per due o tre giorni. Quello ho letto ieri sul giornale. Perché si cerca una soluzione. E qualora la soluzione non dovesse arrivare? Che ne so. Io a casa l'immutizio non me la tengo. Sicuramente. Poi vedremo un po', speriamo che svuotano in qualche modo. Almeno quelli... D'altra parte, io abito in un quartiere dove non c'è la differenziata. Altrimenti, io vedo la differenza, la carta, il vetro e la plastica la differenziata. Ma l'indifferenziato, eh, prima o poi lo dovrò buttare. Fra due o tre giorni lo dovrò buttare. E quando... Speriamo che svuotano lunedì. Sa che la Regione Lazio ha diffidato i gestori delle listarie ad accogliere rifiuti indifferenziati, non trattati? Eh, ho letto, sì. E adesso come si fa? Eh, non lo so. Certo, tutti i problemi aspettiamo la fine. Poi è difficile, certo, risolverli 4-4-8. Il problema dei rifiuti è... Da quanto tempo si sta sul tappeto? A mente io direi almeno un anno, un anno e anche due. Quindi oggi ci troviamo un po' come nei carceri, no? Da tanto tempo all'Europa ci dice che dobbiamo alleggerire, non facciamo niente, poi bisogna fare l'indulto. E qui è un po' come nel nostro piccolo siamo nella stessa cosa. E adesso come si fa? Porteremo, so che ci sta un'ipotesi per portarla, credo, in provincia di Latina, che però ha dei costi enormi. Come si fa? Non lo so. Un problema che potrebbe essere risolto a breve oppure no? Ma io penso che no. Penso che ci vorrà. A parte il fatto che Cirecchia è commissariata, quindi dovremmo aspettare la nuova giunta, i nuovi politici di turno, ma sono patate belle e bollenti, so, quindi per chi dovrà gestire la cosa pubblica. E nel frattempo dei rifiuti che ne sarà? Beh, questo non lo so. Certo che se il viatico è quello poi di riproporre l'inceneritore o comunque altre cose del genere, siamo sulla strada sbagliata. Insomma, dobbiamo trovare una soluzione diversa da questa perché la Civitavecchia già ha dato, sta dando, e quindi dover trovare altre servitù da mettere è assolutamente impensabile. Quindi se questa è una manovra che poi porterà a dovere obbligatoriamente e di corsa scegliere quella strada, no, ce ne dovremmo inventare un'altra oppure la popolazione in quel momento si dovrà far sentire, insomma. Un incubo quello dell'inceneritore che potrebbe tornare a causa dell'assenza di un'amministrazione oppure che potrebbe essere sventato? Io penso che non è il momento questo che si possa risolvere perché siamo completamente senza sindaco, senza niente, tutto. E per quanto riguarda un inquinamento Civitavecchia ha già dato, da parecchio, quindi mi associo completamente a quello che ha detto il mio amico. Io ho lavorato su al centro chimico, so che cosa, com'è grave la situazione a Civitavecchia, tra la centrale e tutto quello che potrebbe, dicono pure che ci portano parecchia qualche cosetta dalla Siria, però speriamo di no. Abbiamo dato. E da come abbiamo potuto sentire direttamente dalle voci dei civitavecchiesi, la notizia sicuramente non è stata presa affatto bene. Per fortuna c'è da dire che dal giorno della comunicazione, ossia il 4 febbraio 2014, all'inizio della nuova settimana, lunedì, il commissario Ferdinando Santoriello ha trovato insieme ai tecnici di HCS una soluzione. Ossia ha firmato un'ordinanza per dare l'autorizzazione ai dipendenti di città pulita di conferire i rifiuti non trattati in un bacino della discarica gestita dalla MAD Fosso Crepacuore in un sito di trasferenza. Da qui, grazie ad un accordo stilato tra l'amministrazione comunale e la Pontina Ambiente, i rifiuti saranno poi portati, come sta accadendo proprio in questi giorni, in un sito, in un impianto di proprietà della Pontina Ambiente sull'Ardeatina per il trattamento. Parte di questi rifiuti sarà trasformata in CDR, la parte, un'altra parte invece già trattata, sarà poi riportata nuovamente qui a Civitavecchia presso la discarica di Fosso Crepacuore. Quindi per fortuna il rischio di un'emergenza rifiuti, come abbiamo sentito sia dal servizio che dalle voci dei cittadini, per il momento sembra essere sventata. Grazie a tutti! Grazie!